In questa lezione vedremo come si risolve un'espressione con le frazioni. Questa è un'espressione contenente tutte e quattro le operazioni che abbiamo studiato e due tipi di parentesi. Le regole, come sapete, sono sempre le stesse, quindi prima devo risolvere le tonde, poi le quadre e poi eventualmente le graffe che adesso non ci sono. Per quanto riguarda le operazioni, prima moltiplicazione e divisioni, poi addizioni e sottrazioni. Allora iniziamo risolvendo le tonde, quindi copio ciò che è fuori dalle tonde. 1 meno 3 quarti, denominatore comune 4, 1 è un intero, quindi è come se avesse denominatore 1, 4 diviso 1, 4 per 1, 4, 4 diviso 4, 1 per 3, 3. E vado avanti finché non incontro la prossima tonda. Denominatore comune 12, 12 diviso 4, 3 per 7, 21. 12 diviso 12, 1 per 7, 7. 12 diviso 2, 6 per 1, 6. E passo alla prossima tonda. Tra 2 e 4, il minimo comune multiplo è 4. 4 diviso 2, 2 per 3, 6. 4 diviso 4, 1 per 5, 5. Passo all'ultima tonda. Anche in questo caso metto il denominatore 1, così lo possiamo vedere. 4, 4 diviso 1, 4 per 1, 4. 4 diviso 4, 1 per 7, 7. E copio il resto. A questo punto finisco i conti nella tonda. 4 meno 3, 1, quindi un quarto. Più copio tutto finché non incontro l'altra tonda. 21 più 7 fa 28. Meno 6, 22, dodicesimi. 6 meno 5, 1, quindi un quarto. Diviso 11 quarti. A questo punto non ho più le tonde, quindi all'interno delle quadre devo vedere chi ha la precedenza. Nella quadra la precedenza la hanno questa moltiplicazione e questa divisione. Quindi il resto lo copio. 22 dodicesimi si può semplificare. Divido per 2, diventa 11 sesti. 11 sesti per un quarto. 11 per 1, 11. 6 per 4, 24. Diviso 11 ventiquattresimi lo trasformo subito in per 4 undicesimi. Questa moltiplicazione si può fare anche subito perché è indipendente dalle altre, però la lasciamo alla fine per seguire passo passo le regole. Adesso devo fare il conto nella quadra, quindi questa operazione. 11 e 11 si semplificano, diventano 1 e 1 dividendo per 11. 4 e 24 divido per 4, diventano 1 e 6. 1 per 1 è 1, 6 per 1 è 6. A questo punto è rimasta solo una somma nella quadra. Quindi questo era l'ultimo passaggio, l'ho solo riscritto per averlo davanti nella pagina successiva. quindi copio tutto fino alla quadra. Denominatore comune tra 6 e 2 è 6. 6 diviso 6 è 1, per 1 è 1. 6 diviso 2 è 3, per 3 è 9. A questo punto non rimangono più parentesi. 1 più 9 è 10, quindi 10 sesti. Adesso ho queste due operazioni da fare. La prima moltiplicazione la posso fare subito. 1 per 1 è 1, 2 per 4 è 8. La divisione la devo prima trasformare in moltiplicazione, capovolgendo la seconda frazione. 5 e 10 posso dividere per 5, diventano 1 e 2. 6 e 8 posso dividere per 2, diventano 3 e 4. Quindi mi resta 1 ottavo, più 1 per 3 è 3, 4 per 2 è 8. 1 ottavo e 3 ottavi hanno già lo stesso denominatore, quindi non faccio il passaggio con linee più lunghe e denominatore comune, ma li posso sommare subito. Quindi il denominatore 8, 1 più 3 è 4. Posso ridurre i minimi termini, dividendo per 4, 1 mezzo.